dal 29 settembre al 21 ottobre torna nelle principali stazioni ferroviarie venete il treno della salute realizzato da medici con l'africa quam con il contributo della sanità della regione del veneto e con le aziende uls del territorio ti aspettiamo a bordo per offrirti controlli sanitari gratuiti e preziosi consigli visita il sito www.mediciconl'africa.org grazie